Ciao, ma fate pirla, eh! Non mi fanno ridere gli scherzi, neanche in città, pensa qua! Ehi! Mario! Cos'è, oi? Se sono rettini non li voglio vedere, mi fanno schifo, con sopporti serpenti, cos'è? Piano, non fai di male. Che cazzo è? Peiote, non mi hai visto? Ah, tipo un... come una pianta grassa, come un cactus. Sì, solo calucinogena. La roba è che dai flash, cioè cidicotena, tipo un acido. No. Sì. Tanto è naturale. Pensa che alcuni popoli qui pensano che sia sapere. Poi non è mica facile a trovare, eh! Chi l'ha trovato? Lui ha trovato noi, cioè... Tu non puoi cercarlo, non puoi trovarlo, è lui che sceglie te. Cioè il peiote ha trovato voi. No, ti dico solo che peiote vuol dire carne degli dèi. Cioè il peiote ha trovato noi, non puoi trovarlo, è lui che sceglie, 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 è lui che sceglie.